Diamo la parola a questo punto all'ex ministro degli esteri Giulio Maria Terzi di Sant'Agata che è il nostro rappresentante degli italiani nel mondo ma è stato anche un grande diplomatico e perciò sa che la sintesi in diplomazia è la cosa più importante. Io tremo quando vedo i discorsi iscritti. Non solo ho un maestro di sintesi che è Ignazio ma è anche un grande leader nel gestire le assemblee. Cari amici, cara Giorgia, caro ufficio di presidenza, è un grandissimo onore per me poter annunciare che per la prima volta in una grande assise, anzi nella massima assise ma anche considerando le altre occasioni di organi direttivi previsti dallo Statuto. Per la prima volta oggi abbiamo presente un'importante numerosa delegazione di personalità della nostra emigrazione, della nostra cultura, della nostra impresa che viene dai cinque continenti e che rappresenterà sempre di più in questi paesi Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale. Vorrei veramente chiedere alle telecamere di inquadrare questo meraviglioso gruppo. Molti di loro sono venuti da lontano. il presidente dei comitati tricolore fondati da Mirko Tremaglia ha varcato due volte l'oceano nell'ultima settimana per essere con noi oggi. Sono particolarmente lieto e onorato di darvi questo annuncio e di potervi assicurare che questo gruppo così qualificato di esponenti di Fratelli d'Italia continuerà a lavorare con voi, con tutti noi per il successo e sempre più l'affermazione della nostra identità. Questo perché l'italianità è un valore identitario di grandissima forza per Fratelli d'Italia e il nome che ci siamo dati riassume una storia millenaria, quella delle decine di milioni di italiani che hanno affermato la loro identità nazionale dentro e fuori dai confini. Come Giuseppe Mazzini in un certo senso tutti noi vogliamo e cerchiamo continuamente la patria. E lasciatemi dire che nessun altro partito quanto il nostro conserva nel proprio patrimonio il valore dell'essere italiani in un unico popolo e in un'unica nazione. È stato solo il nostro partito a battersi per contrastare i recenti attacchi a simboli identitari della cultura e dal pensiero italiano nel mondo come quelli di Italo Balbo e di Cristoforo Colombo. È stato solo il nostro partito con atti parlamentari, interventi pubblici e azioni in Italia e all'estero a cercare di eliminare, di fermare questa sorta di revisione storica, soprattutto in Nord e Sud America, delle imprese di Cristoforo Colombo. Ma non si è mai levato una voce da Gentiloni e dei suoi ministri per sottolineare come questi processi revisionistici siano un vulnus ai valori e ai principi dell'Occidente, lo siano ancora di più in un momento così drammatico per la diffusione e i rischi che pongono i fenomeni migratori, il terrorismo, la radicalizzazione e la violenza. Letta, Renzi, Gentiloni e i loro ministri degli esteri hanno certamente brillato per declaratorie a favore degli italiani all'estero, ma nei fatti hanno sempre fatto l'esatto contrario. Ci sono delle responsabilità alle quali devono essere chiamati. La prima è quella di aver proposto indecentemente una riforma elettorale che spazzava via completamente sei rappresentanti eletti all'estero, riduceva il numero delle voci che potevano valere nel Parlamento italiano per rappresentare queste realtà così importanti e addirittura raddoppiava il numero dei voti necessari ad eleggere all'estero un deputato rispetto ai voti richiesti in Italia. Ma ancora di più questi governi, gli ultimi tre governi a guida PD, si sono resi responsabili politicamente di aver distrutto in parte la rete consolare, le forme di assistenza, di tutela, di protezione dei nostri italiani nel mondo sia individualmente che come gruppi. Abbiamo circa 15 milioni di italiani che sono giorno per giorno presenti all'estero e non possiamo permetterci di smantellare in un colpo solo con un tratto di penna 20 uffici eliminandoli dalla rete riducendo il personale della Farnesina di più di 1200 persone, di ridurre le risorse economiche in modo così massiccio che soltanto 50 milioni di euro sono spariti nel giro di pochi anni dai capitoli di bilancio della Farnesina destinati a queste finalità. È ora di finirla, la tendenza deve invertirsi e Fratelli d'Italia è fortemente impegnato a farlo, è impegnato a farlo attraverso misure di equità fiscale, l'abolizione dell'Imu sulla prima casa deve riguardare anche gli italiani all'estero, ci devono essere agevolazioni fiscali per quante ristabiliscono la residenza in Italia, misure a favore dei ricercatori, dei dottoranti in ricerca e soprattutto ci deve essere un maggior controllo sul voto all'estero che ad ogni tornata crea delle distorsioni e addirittura delle truffe di proporzione inquietante, quindi il voto all'estero deve uscire con dei metodi nuovi che sono già disponibili attraverso piattaforme telematiche e procedure di voto. Si potrebbe fare in cinque minuti con un decreto legge o quantomeno vogliamo noi di Fratelli d'Italia presentare un disegno di legge da far passare nella prossima legislatura. Vogliamo un rafforzamento significativo delle forme di assistenza, delle forme di protezione. I connazionali all'estero sono parte integrante del nostro popolo e della nostra sovranità ed è indecente, lasciatemelo dire ancora una volta, che gli interessi economici cancellino regolarmente le priorità della difesa degli italiani che stanno in difficoltà. Mi riferisco ancora una volta dopo tanti anni ai casi che ben conoscete, di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, ma anche ai casi di Giulio Reggeni, alla tutela non sufficientemente garantita alle migliaia di connazionali italiani che sono detenuti all'estero senza adeguate forme di assistenza. Quindi, cari amici, io credo che nel rivolgere ancora un devoto e commosso pensiero a chi è stato il grande artefice di una legge, ma soprattutto l'artefice di una visione, Mirko Tremaglia, ci sia un rilancio a tutti i livelli istituzionali, specialmente i più alti livelli istituzionali che se ne sono un po' dimenticati negli ultimi tempi. Un rilancio della giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo l'8 agosto in ricordo dei nostri connazionali deceduti a Marsinel. Vogliamo impegno e iniziative vere per far conoscere la storia dei connazionali emigrati, per diffondere la nostra lingua e la nostra cultura. Sosteniamo perciò la proposta del Consiglio generale degli italiani all'estero per un importante riconoscimento alla straordinaria figura del ministro Mirko Tremaglia nella consapevolezza di quanto sia attuale, di quello che lui amava dire. Amava dire l'altra Italia si è presentata davanti a me con un'incredibile forza umana e morale e la ricchezza inesauribile dell'italianità. L'italianità è affermata dentro e fuori dei confini nazionali, nella nostra identità e nel nostro modo di essere un popolo sovrano. Grazie. Grazie ministro e nel nome degli italiani nel mondo lasciate che ricordi...